Ciao ragazzi, mi chiamo Simona Olivia Moritz e vivo qui a Firenze in Italia da ormai 14 anni. Normalmente lavoro per la Florence Academy of Park qui a Firenze, ma intanto faccio anche tanti viaggi all'estero a dare istruzioni private o fare piccoli workshop mie. Così ho girato per esempio l'Armenia, l'Israele, la Scandinavia, la Spagna, gli Stati Uniti, ovviamente Germania, anche Austria, Olanda e qui anche in Italia ho fatto varie cose e vorrei proseguire di dare istruzioni su pittura perché mi piace tantissimo a condividere quello che ho imparato in tutti questi anni e darvi un po' di istruzioni come si arriva a un dipinto bello. Così da domani in poi ci faccio le lezioni online. Domani, martedì e mercoledì, sempre alle 3 di pomeriggio, se volete mi potete seguire su Zoom, mi mandate un messaggio su Instagram at SimoneOliviaMoritz o at SimoneOliviaMoritzArt. Mi potete anche mandare un'email a SimoneMoritz at Live.com Così domani si inizia con la prima lezione e il tema sarà una piccola natura morta così magari scegliete già un oggetto che a vi piace mettetelo a parte e domani si comincia. Vi spiego passo per passo i vari livelli a iniziare, lavorare e poi finire una natura morta. Preparatevi la tela, i colori d'olio e penelli e spero di vedervi tutti quanti domani.